Fiabe per crescere, storie per imparare a conoscersi. È un libro di fiabe, storie autobiografiche raccolte nel corso del mio laboratorio sul metodo autobiografico creativo. Ma è anche uno strumento di lavoro, leggere una storia, narrare una storia, la piacevolezza dell'esperienza della lettura, accompagnata anche all'uso pedagogico della stessa, ad uso di insegnanti ed educatori che vorranno utilizzare la realtà aumentata con cui questo libro è concepito. Leggere per se stessi, leggere per gli altri, insegnare con le storie, imparare con le storie. I desideri che cadono nel mare. Edizioni Circolo Virtuoso.